Ciao a tutti ragazzi e ragazze, rieccoci tornati in questo nuovo video che è molestamente più nuovo di così si muore Gorgeous serie 2, bene, allora innanzitutto vi diciamo che siamo in Francia e quindi abbiamo preso in Francia Perché in Italia questi prodotti sono stati praticamente tolti dal commercio e probabilmente non arriveranno almeno fino adesso mai più Fino adesso mai più, che cavolo vuol dire? Almeno fino adesso non ci sono, no mai più La sento è stare al mio francese che è meglio Ma che vuol dire? Vabbè andiamo ad aprire le figures Allora ragazzi è meglio che parlo io perché Marco sta facendo un toppo dietro l'altro proprio Non sono figures ma sono le photocard Non mi piace chiamarle figures, vai, photocard, via Sono della Panini Davanti abbiamo questa bambolina come copertina Dietro sono fatte così Il prezzo è di 1,50 euro Quindi poco E qua ci sono queste 4 bamboline Noi abbiamo preso due bustine sfuse Quindi così Più l'album raccoglitore con altre due bustine dentro Sì purtroppo sarà l'unica apertura che faremo Eh sì Perché ovviamente sono trovabili solo in Francia Allora E' così Partiamo subito Stiamo andando ad aprire queste photocard Già Chiara si è arrabbiata perché gli si è rotta A bustina A bustina Non volevo rompere Eh vabbè Uh che bella Allora sono giganti ragazzi Ci sono molto più grandi delle figurine Almeno Abbiamo Forse il terriplo più grande delle figurine Questa Che davanti è fatta così E il dietro è così Con il suo numero di riferimento Esatto In questo caso 25 Poi dopo come al solito le andremo ad attaccare Che bellissima secondo me Poi Andiamo sotto un'acquazzone questa gorgeous Con questo ombrello Questa Che carina che è Sì sono come al solito fatte veramente in maniera fantastica Questa già mi piace solo per i colori Puoi girarmela Aspetta un'altra Molto bella Molto bella Con questo Questi colori Vale la stessa cosa per questa Questa qui è bellissima veramente C'è una scritta in inglese tra l'altro I try to remember Ok la pronuncia lascio un po' desiderare ma fa niente I try to remember Quindi il tuo ricordo Il tuo ricordo vero sarà tipo Una cosa di genere Poi ho questa Ok Hai i capelli un po' mossi Poi abbiamo Aspetta eh Aiuto Lei? Questa che somiglia a ragazze Non so se vi ricordate Bibi calze lunghe Effettivamente Con quei due Quelli lì ci somiglia a tanti Il coloro dei capelli più o meno uguale E poi questi sono Quelli Diciamo Tutte Tutte le carte che ci sono Ok 108 la checklist ecco Magari possiamo andare Dare un'occhiata dopo Rotta Stavolta intatta Allora Proviamo questa simpatica Gorgius Ha le prese con una lumaca Su un quadrifoglio Una lumaca? Sì Sì Questa Con una stellina Con una ripiatura diversa Dalle Ah questa qui sai qual è? È quella che era uscita Nelle Statuettine Diciamo Quella col barattolino Tipo di miele Ah sì Questa qua Poi abbiamo lei Che è bellissima Che sarebbe La stessa che c'è qua Con il gattino nero Che è bello Poi abbiamo lei A proposito di barattoli Questa Un barattolo Non so dentro cosa ci sia Sembra pittura No acqua Pioggia Vedi Pioggia Ok Ah sì Giusto Qua troviamo invece un albero Un ciliegio Sarà buono Con dei cuori sopra Molto Molto bello E poi Qua vabbè Sempre la La ciliegio Ok E qua abbiamo lei Con Un simpatico Uccellino Giusto? Mi sbaglio? No un fiore Un uccellino Un fiore Ah ok Sulla sua Sulla sua spalla Insomma Ecco Va bene Adesso passiamo alle prossime Allora ragazzi Queste qua Sono le due copertine Che poi vanno messe Qui Una qua E una dall'altra parte Mentre qua Poi ci andranno tutte le fototessere Eh sì Le fotocard Da me mi si è fototessere Quelle le dovrei andare a fare poi Peraltro Location Diversa Di questo video Siamo ancora in Francia Ripartiamo domani Allora Eccola qua La prima Non la descrivi Sì sì no Molto bella questa Come una bambola di pezza Sì sì È molto bella Comunque la bambola Mi piace Poi Vediamo lei Ok In questo modo Bella la cornice Che c'è intorno Alla bambola È fatta I found my family In a book Sarebbe tipo La mia famiglia In un book In un libro Sì Ma che dobbiamo Vai Questa Ok Questa Ok Il morso colare Questa The handbrass Quello che c'è Scritto E poi Questa Questa è la Jepis Ok Con un orsetto E dei calzini Appesi Esatto Ultimo pacchetto Purtroppo Perra Chiara La quale vorrebbe Ovviamente Continuare A deboxare Altre figo Se purtroppo Non sono trovabili Ripeto In Italia Ma solo In Francia In Spagna Trovate Queste Figures Qua No Figures Le Photocard Photocard Non sono In Spagna Se le trovano Beh in teoria Sono prodotti Che dovrebbero Eserci anche In Spagna Solo da noi Siamo arretrati Ragazzi In Italia Questa Bella Questa foto Con il cavallo Che non è Riguardante Però i pony Ok Questi sono Due gemelli E una strega Ok Il suo teddy Teddy bear Anche qui Un altro teddy Non è quello Di Mr. Bean Però Questa è una mela Io qua Teniamo le mele verdi Noi Lei c'è la rossa Ok Evidentemente Non gli piacciono Le smith E basta E poi troviamo Due pio pio Uno Uno che guarda in giù Poverino Avrà male Va bene ragazzi Ok Troviamo Troviamo Il pio A testa in giù Che avrà mal di testa E un pio Che guarda La gorgeous Pio 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 Va bene Allora Adesso Lo mettiamo dentro Allora Come vediamo Andiamo a inserire La copertina Che sarà Questa Fatta in questo modo Ok E adesso Andiamo a mettere Anche l'ultima Facciamo anche vedere Come È molto molto semplice Basta allargare La pagina In fondo È inserita Voilà Cosa abbiamo Abbiamo la numero 13 Quindi veramente vicina Dopo andremo anche a vedere Come Si è Formato Appunto L'album Ecco la figurina Ecco la figurina Numero 11 Messa al suo posto E subito dopo La numero 13 Poi cosa abbiamo Allora abbiamo la numero 16 Questo è un ombrello Seguita dalla Numero 18 Che è quella Questa Poi abbiamo la numero 19 E la numero 20 La numero 24 E la numero 25 Che sono Queste due Numero 39 Seguita dalla numero 40 Con l'ossetto polare Avanziamo E troviamo Questa 46 E poi la numero 49 Che è bellissima Abbiamo questa figura Con l'ossetto Seguita Da queste Tre di fila Praticamente Una Due E tre Proseguiamo Allora Due cose importanti La prima È che in Spagna Queste non si trovano Gli unici due paesi Che si possono trovare Come la copertina Sono Belgio E Francia Le uniche dove sono state distribuite Altrimenti Non potete trovarle Nel tuo paese Quindi in Italia Non Probabilmente Non arriveranno Mai Sarà così Speriamo di no Tanto abbiamo scoperto Di aver sbagliato Il senso Di posizionamento Delle Photocard E allora Vi mostriamo Come andavano messe Correttamente Così Praticamente Vanno 4 Figures Per ogni Sezione Quattro card Per ogni parte Insomma Vai Questa Tu vai Che poi Blocco io Vai 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 Fagli vedere Pure Tanto Le abbiamo già viste Le abbiamo già viste Anche prima Vai Devo farle vedere Bene Cioè Ok Diciamo che stai mettendo In più Le animazioni Per me Vai Ok Povera Gorgio Si Liberano Un mal di testa Aspetta Ci stocca Niente Questa L'ho fatta Vedere Già Ok Siamo Quasi Arrivati Alla fine Ovviamente Dobbiamo Montarne Ancora Un po' Ok A questa Prosighiamo con il montaggio Adesso Eccoci A queste qua Questa E poi 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 Questa 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 Che è L'ultima Si Quindi Non abbiamo più Ah Qua ovviamente Dietro le due Cuperfine C'è la check Che è di qua E' uguale Praticamente Vabbè Io qua Adesso Ci ho messo Le bustine Però possiamo Appunto Intravedere Un po' La checklist Giusto Per farvela Qua vi fa vedere Tutti i numeri Dal primo Stai ferma Che così Riprendo bene Possiamo Insomma Un pochino Intravedere Quali sono Le figurine Tutte Molto belle Ovviamente Ebbene La mia preferita E lei Dov'è Aspettate Dov'è 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 Me la son persa Allora lei Quindi la numero 105 5 E la 45 Dov'è Che è indietro Dì là Quindi è l'altra Ah Né qua Ok Aspetta Dove sei Dove sei Dove sei Dove sei 45 Qua Questa Qua con l'orologio Ok Quindi ci sono anche Le figurine Inerenti Alle statuette Sì 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 Perfetto Sì Va bene Bene Noi speriamo che questo video Vi sia piaciuto Quindi lasciate un like A questo video Penso che sia doveroso Lasciare un like In quanto in Italia Purtroppo Queste cose Non ci sono Vedremo se Nell'arco della giornata Riusciamo Vediamo Non lo so Prenderne magari Qualcun altro Per farvele vedere Oppure Lascialo così Vabbè Se vedete un altro video Vuol dire che ne abbiamo prese altre Altrimenti no Esatto Mi raccomando Like a questo video Alle gorgeous Che Carapanini Lo meritano davvero Carapanini Anche se non guarderanno Ma questo video Però Fatelo uscire anche in Italia Così riesco a finirlo Sto anno Vabbè Bene Alla prossima ragazzi Ciao Ciao